Allora guarda, io penso davvero che stiamo raccontando un film che non esiste, cioè la Lega non è anti-europeista, la Lega pensa che l'Europa così come congeniata non è, secondo me consona, alla libertà di ogni paese e su questo abbiamo avuto anche una dimostrazione in questo caso con questa elezione, noi volevamo parlare e far capire che determinati argomenti dovevano entrare più incisivi nel discorso che doveva fare il nuovo commissario, questo non sono entrati e per questo non l'abbiamo votata, questo secondo me è basilare su ogni ragionamento, dopodiché Conte avrà trattato con la Merkel che i 5 Stelle avranno in qualche modo valutato di dover votare questo nuovo commissario, è una scelta politica loro, di certo non va a favore di questo governo, questo è sicuro.